Stavore intanto ti chiedo subito come stai? Stamattina è bene perché come ogni mattina esco con Padre Pio perché è il santo che mi intercede con la mano divina perché solo a Dio credo e penso che solo Lui mi potrà salvare la vita e poi sono anche io arrabbiato con Lui perché non ce la farà perché già uno l'ho tolto nel 2013 e l'ho debellato e anche questo che mi è venuto nel cervello lo distruggerò Ma come hai scoperto di avere questa... L'ho scoperto mentre ero che parlavo con mia moglie a lungomare mi sono accasciato pensando mia moglie che fosse un infarto e poi da lì andando in ospedale mi hanno detto tutta la situazione come era dagli esami che mi hanno fatto E tu sei sottoposto alle cure in Germania? E ora mi sono sottoposto alle cure in Germania e quando faccio le cure sto bene, devo essere singere, mi fanno stare bene, certo L'arrabbia che ho dentro ce l'ho con lui perché lo devo distruggere però è l'invalidità, il fatto che non riesco a fare più le scale correndo alzarmi dalla sedia con affanno e poi tutte le macchinette appese per fare le flebo Il resto penso di essere tosto C'è stata una grande partecipazione di amici, conoscenti, parenti tutti sono stretti attorno a Totospene perché la cittadinanza quando vuole riesce ad aiutare questo è importante Io ho sempre detto che Gela è una grande città Io l'ho sempre chiamata mamma Gela, ho pubblicato sui seggi network Grazie a tutti i gelesi, grazie mamma Gela, come sempre ringraziato ogni giorno Grazie a tutti, amici miei, i gelesi, tutti bambini, i piccoli, tutti, grazie a tutti Sente fantastici C'è un numero che contrassegna la tua quotidianità, è del 17, perché? È un numero angelico degli angeli Io mi sono sentito male il 17 luglio 2015 dimesso dall'ospedale dopo l'intervento il 17 agosto 2015 e tante altre cose sempre il 17 non per caso io pubblico il 17 su mio account Facebook E sei partito per il servizio di leva anche il 17 era di venerdì di novembre, del 90 Te lo ricordi meglio di me perché tu eri un militone insieme a me quindi abbiamo fatto un militare assieme e vuol dire che questi angeli con la mano divina mi aiuteranno ce la faccio ragazzi, ce la facciamo tutti, tutti, grazie Grazie